Preghiamo insieme, Madre Divina, io sono tuo figlio, buono o cattivo, io sono tuo, aiutami a conoscerti. Amen. Allora, ma ci sono molte persone qui. Prima voglio che Stagia lesse una lettera che ho scritto a tutti in inglese, lei ha trotto. Considerate anche questo fatto straordinario. Lui sapeva che dopo qualche attimo avrebbe lasciato per sempre il corpo fisico, ma non c'è alcun pensiero del sé nei suoi occhi, nessun pensiero di rimpianti personali, di dispiaceri. Dai suoi occhi e dall'espressione del suo viso trapela chiaramente il suo amore per tutta l'umanità, la sua disponibilità a tornare ancora e ancora, come disse egli stesso, finché un solo fratello perduto sarà rimasto piangente sul ciglio della strada. Un simile amore non è neppure concepibile per gli esseri umani immersi nell'ego. Questo era anche l'amore che Gesù sentiva per l'umanità. Le persone piangono per lui e per le sue sofferenze sulla croce, ma la sua sofferenza era solo per l'umanità, che respinge ciecamente l'amore di Dio e lo sostituisce con l'odio e la vendetta. Sto attraversando un mio Armageddon personale. Nulla in questo mondo mi attrae più. Nulla conserva per me ricordi piacevoli. Nessuna di quelle esperienze, interpersonali o comunque esteriori, esercita su di me la benché minima attrazione. Devo veramente vivere altri cinque anni, come mi è stato predetto? Confesso che questa idea mi sgomenta. Ho fatto così tanto nella mia vita per compiacere Dio. La caratteristica distintiva della mia natura è stata l'entusiasmo, anche se sono sempre stato consapevole di non poter mai veramente realizzare alcunché di significativo in questo mondo. Ora, all'improvviso, mi sento privato di quell'entusiasmo. Forse è perché il mio cuore si sente molto stanco. Voglio solo immergermi in Dio. L'unico pensiero rimasto è che vorrei portarvi tutti con me. No, non sono affatto stanco di voi. Desidero solo la vostra libertà in Dio. Ma no, i vostri attaccamenti, identità e desideri mondani, devo confessare che non significano nulla per me, così come i miei non significano nulla per me. No, questo non significa che vi amo di meno. Vi amo molto di più, perché amo quella parte di voi che è eternamente reale. Ma se ho avuto successo o se ho fallito nei miei progetti, non ha alcun significato per me. Tutte le cose che un tempo consideravo piacevoli, ora mi risultano spiacevoli. Non desidero nulla di ciò che questo mondo ha da offrirmi. La gente mi dice che sono famoso. Anche quella frase, per me, non ha alcun valore. Le persone si meravigliano spesso di tutto ciò che ho potuto realizzare in questa vita, ma a me sembra solo polvere. Se dobbiamo far risorgere la nostra anima, lasciamo che risorga dall'illusione che esista qualcosa in questo sogno cosmico che sia reale in un modo significativo per noi. Siamo figli di Dio. È questa la nostra unica realtà. Con amore, suami. Prima di parlare su questo, voglio dire qualche novità che sono interessante per voi. La fine di aprile abbiamo fatto un film, ho scritto questo film e hanno fatto Adananda. Shivani e Asha sono i principali in fare questo film. Ed è molto bello, l'ho già visto, sarà dimostrato qui alla fine di aprile. Vi prego tutti di venire perché è molto ispirante. Penso che farà a tutto il mondo pensare seriamente al bisogno di creare comunità come Ananda. È un film con gli attori solo di Ananda e un'altra ma solo per intervista. Anche ho cominciato un film della mia vita. Spero che sia interessante, non so. Però questo anche avverrà forse a novembre. E poi ho scritto altri film, che questo finirà più tardi, però uno della vita di Yogananda, che vorrei molto che uscisse entro un anno, chissà. Allora, quando stavo andando di Calcutta a Mumbai, dove dovevo iniziare la mia parte in questo film della mia vita, ho avuto un incidente sull'orecchio. Non penso che sia dovuto alla vecchiaia, certamente non sono giovane. Avrò a maggio 87 anni, un bel poco di anni. E poi ho completamente, all'improvviso, perso il mio dito in questo orecchio, il buono orecchio. Questo non è mai buono. Quindi quasi non posso dire niente. Un po' più è migliorato, ma solo un po'. Poi sono andato in ospedale con colite, e i medici, quando hanno visto le mie storie medicali, hanno passato per tutti loro meravigliare la mia vita medicale. E poi ho avuto doppio pulmonite. E poi, in questi ultimi due mesi, ho avuto cinque cadute. Il quarto era penoso, gli altri non tanto, ma il quarto vedi un po' qui, qui, qui. Il cuore è così stanco che ogni tanto mi viene il pensiero che sarebbe bello se cessati di battere completamente. Però, se Dio lo vuole, io sono contento di continuare questa vita. E soprattutto perché vi amo, sinceramente. Voglio il tuo benessere spirituale. La mia vita è stata dedicata a servire Dio e mio guru e aiutare gli altri a conoscere chi siete voi. Voi non siete persone, peccatori, non lo siete. Sì, potete pecare. Però l'uomo è un figlio di Dio. E Yogananda ha detto che un santo è un peccatore che non si è mai dato per vinto. E questo dovete, anche se avete peccato molte volte, poi siete il suo figlio. E alla fine avete soltanto una missione di trovare Dio e rimergere in Lui. Una cosa voglio dire. Ho letto qualche libri di persone che sono andate nell'altro mondo temporaneamente. E alcuni sono andati all'inverno e poi sono tornati. E lì hanno visto purtroppo molti giovani. Io penso il perché è soprattutto per la musica che amano. Questa musica è diabolica. Con un'enfasi sull'ego, sul forte ritmo. Dice io, io, io. Uno deve, la parte principale della vita spirituale, abbandonare questo ego e capire che non siamo questo ego, siamo figli dell'infinito. Molto importante. Allora, questa Pasqua, e vi voglio tutti buona Pasqua, però, più di questo, voglio che voi capite che è un simbolo, come ha detto minuti fa Sahaja, un simbolo di un risorgimento per ognuno. Noi abbiamo questo bisogno di risegliarci dal male, dall'ignoranza in Lui. Una volta Yogananda è andato a un, come si dice, revivalist meeting, come si dice in italiano? Un raduno di rinnovatori spirituali. Dai cristiani fondamentali. Questa donna ha detto, voi siete tutti peccatori, mettiti sulle ginocchia. E Yogananda ha detto, io ero l'unica persona lì che non si è ingiocchinato, perché non volevo ammettere che sono peccatore. E voi dovete anche dire, io non sono peccatore, anche se pesco. Pecco? Pecco. E' bello venire ai miei discorsi, perché faccio tanti sbagli. Non siete peschi. Anche se voi sbagliate molte volte, voi siete all'interno, figli di Dio. Sai che voi avete iniziato questo vostro peregrinaggio come una pietra. Poi alla fine la pietra è risolta, è diventata una verma, un germe, una verma, tante vite. Si dice nelle scritture indiane che ci vuole tra 5 e 8 milioni di vita per arrivare a livello umano. E a questo livello entra la libera volontà. E allora tu puoi andare anche più milioni di vite come un uomo. Tu puoi perdere questa umanità usualmente, normalmente, solo per una vita. Però se tu hai una natura di tigre, tu puoi diventare una tigre. Molti animali sono uomini cadute. Normalmente cadono soltanto una vita. Ma se pecano e pecano e pecano possono cadere anche al livello di una germe. e poi a poco a poco devono però c'è sempre in quelle persone la memoria deve essere più e per loro è una pena enorme. È molto importante che uno cerca di migliorarsi. E una volta un discepolo di Yogananda ha detto maestro io non penso che un molto buon karma. Lui ha risposto con molta fermezza ci vuole una buona molto buona karma anche per voler trovare Dio. Allora voi avete tutti questo tipo di karma altrimenti non sareste qui. Però non perdere questo karma. cerca sinceramente sembra difficile non è una vita facile ci sono tante tentazioni le scritture dicono che quando troviamo Dio c'è la beatitudine e poi l'uomo dice finalmente forse però adesso ci sono questi piaceri queste tentazioni perché aspettare tanto tempo perché non godermi adesso però se tu puoi rifiutare le tentazioni di illusione tu poco a poco arrivi ogni tu puoi non è una cosa che devi soltanto trovare per te stesso una cosa che tu vuoi questa è una bella cosa nelle comunità che abbiamo fondato perché certe persone vengono col desiderio di che c'è in questo per me e tu puoi vedere che queste persone non sono mai così felici che coloro che dicono io voglio solo Dio e a poco tu puoi vedere per l'esempio degli altri che vivere per Dio ti dà più felicità Gesù ha detto è più benedetto dare che ricevere e è vero e se tu non lo credi provalo e se è difficile vedi le altre vite degli altri io ho fatto un bel esposizione di diapositivi che ho fatto io delle persone in tutto il mondo e tu vedi che l'unica persona che hanno un viso veramente felice è coloro che amano servire gli altri amano vivere per gli altri amano non pensare a se stessi ma agli altri e così a poco a poco tu capisci che vivere con Dio non è la sofferenza che la gente chiede è peccato che le persone che pensano al crocifisso di Gesù come la sofferenza di lui lui non ha sofferto sulla croce lui era la sua sofferenza era solo per l'ignoranza di coloro che volevano farlo soffrire ma lui era in Dio non poteva soffrire per il corpo non era possibile il vero messaggio del cristianesimo è la beatitudine che tu trovi quando sei in Dio non è una vita di difficoltà o si ci sono difficoltà ma valgono la pena io devo dire che ho subito molti Yogananda dice che ha spesso citato la storia di Santa Teresa di Avila che una volta nelle vecchia lei stava per morire e Gesù l'ha salvato ha detto non ti senti troppo male figlia mio così tratto tutti i miei amici e lei ha detto perciò signore così pochi sì Dio vuole provare se tu veramente lo ami o no però comunque la gioia che tu senti io ho avuto molte prove perciò perciò hanno passato in ospedale la storia mia ma non lo penso così non sembra una sofferenza perché la gioia è molto di più una volta una santa musulmane non ci sono molti però i sufi sono altra cosa e loro hanno un amore per Dio e questa santa si chiamò Rabia e nella vecchiaia aveva una malattia e tre discepoli suoi sono venuti uno ha detto ma uno non è degno per Dio se non è capace di soffrire per lui e lei ha detto molto più di questo ci vuole e il secondo ha detto allora lui non è un vero amante di Dio che non è felice soffrire per Dio e lei ha detto anche questo sembra un po' di ego allora loro hanno chiesto ma dicino tu a noi chi è un vero amante di Dio le ha detto lui è un vero amante di Dio che dimentichi la sofferenza la contemplazione della sua gioia e amore e così uno ha detto vedi la vita di San Francesco era una vita molto dura ma lui non ha sofferto perché amava Dio veramente la cura per la sofferenza e l'amore la cura per la sofferenza e la gioia e se tu hai questo non importano le prove vedi tu puoi vedere le vite dei santi da esterno può essere una cosa tremenda ma vedendo le loro vite tu vedi una gioia che non importante le prove che hanno sofferto io posso dire anche io che sono un piccolo a persona ma sento in questa gioia una beatitudine che mi rende non importante anche questo mio cuore che adesso è molto stanco da questa caduta è una cosa ma se anche cessa di battere non mi importa se muoio non mi importa se devo soffrire un martirio non importa una volta ho avuto un sogno dove i nemici miei hanno cercato di mettermi a fuoco di bruciarmi come ha fatto a Giovanna d'Arca e io ho detto va bene fa pochi minuti non sentirò niente più di questo corpo ma lo accetto e ho visto nel sogno che loro erano lì festeggiando e ridere bere e tutto non si succede così nella vita ma nel sogno si può avere tutto allora in questo sogno amici miei sono venuti mi hanno salvato e io ero indifferente e mi sono svegliato pensando ma questo è bello avere indifferenza a quello che succede se io vivo nella verità se vivo per il buon karma per il benessere degli altri non importa a me che cosa succede se voglio fare soltanto la volontà di Dio allora questo è il messaggio di Pasqua è sempre un messaggio un po' difficile ma non è difficile veramente la cosa più importante più felice è amare Dio lui ti metterà per le prove ma la beatitudine che tu senti nella sua presenza è così enorme che niente ti importa niente altro una discepola di Yogananda Gyanamata le ultime parole che ha dichiarato erano che gioia che gioia troppa troppa gioia e così ha lasciato il corpo e così succederà per ognuno di voi quando voi trovate Dio e non potete evitare questo destino perché il tuo destino dall'inizio è il tuo tu sei una manifestazione di Dio e tutte altre cose sono illusioni e tu puoi vivere per miliardi di anni alla fine comunque il più grande pecatore deve trovare Dio e il suo destino allora perché perdere tanto tempo perché non decidere adesso voglio dire e quando lui sa che veramente tu lo vuole tu vedrai che anche se tu hai stato il più grande pecatore lui sarà con te e tu con lui dice nella vaga varietà anche il più grande pecatore del mondo se cerca Dio se medita se pensa a lui lo troverà non è soltanto una possibilità è impossibile di evitare questo del tuo destino destino allora Pasqua pensa agli altri pensa al fatto che Pasqua è un risveglio di anima e cerca di condividere questa bellezza con gli altri quando tu vedi uno che soffre quando gli occhi piangono o duri cerchi di dargli una lancia di gioia dai un sorriso io ho visto molte volte quando vedo uno straniero io cerco di dargli un po' di gioia e ho visto che cambia e più recente ho visto che le persone che prima di io sorridono loro sorridono a me allora cerca di essere strumenti per questa gioia divina tu vedrai che così verrà una gioia che non troverai altro servire Dio negli altri e servire te stesso negli altri la gioia è l'unica cosa che tutti cercano ogni uomo nel mondo vuole la felicità è vero no? un mafioso forse vuole la felicità poter distruggere perché perché pensa che così solo lui troverà la felicità alla fine trova che danneggiare gli altri non ti dà felicità poi cerca le felicità in soldi tu vedrai al fine che i soldi non ti fanno felice tu cerchi e cerchi e cerchi e finalmente tu trovi che aiutare gli altri amare Dio avere ideali nella vita tu trovi a poco a poco che queste sono le cose che gli hanno più gioia e quando tu cerchi questa felicità tu troverai la gioia e nel trovare la gioia tu troverai una beatitudine che è eterna questo è tuo e io voglio niente più di questo per tutti voi vi amo in questo e tu devi amare tutti e nell'amore di Dio perché Lui ti ama se tu capisci quanto Lui ti ama tu moreresti di gioia io non posso rimanere allora continuate voi grazie grazie grazie